Buongiorno, oggi è 31 luglio, usciamo, si esce per la prima volta di casa all'alba delle 11 e mezzo, una volta andato, lo spasso, ciao a tutti. E niente, oggi la giornata cosa prevede? La giornata prevede andare a giocare a tennis alle 2, ovviamente abbiamo spolestato Costanza e faremo giocare mio fratello a posto suo, Costanza mi dispiace se è troppo scarsa, Lorenzo vede di giocare per bene, poi si va dalla nonna in campagna a fare il bagno in piscina, forse, e forse campetti, forse, non si so. E niente, la giornata di oggi la dobbiamo rendere produttiva noi. Barbie, abbiamo visto Barbie ieri. Mio babbo ha detto che non ci voleva venire perché diceva che faceva schifo e mio babbo aveva ragione. filmetto, 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 nulla di che, nulla di che. E niente, poi che si fa? Poi gioca il 31, il 2 si parte per la montagna, si va in montagna, tre giorni, con la Bozzi, con mamma Bozzi e fratello Lorenzo. E speriamo bene, speriamo bene. Magari incontriamo un orso, come l'anno scorso. e basta, basta. Bene, io e il mio cappellino da UniPG, di UniPG, siamo pronti per andare a giocare a tennis. Bracchetti ci sono, andiamo? Andiamo. Ciao, mamma. Il compagno c'è, possiamo andare. Ciao. Ciao. Ovviamente non si lascia di casa, se no non si ritorna in casa. Bel caldino, per una gioca a tennis, orale giusto, le due del pomeriggio, il 30 di luglio. Ma crema, l'insolazione viene tranquillissima, senza che la chiami nemmeno. Ecco, io e la mia faccetta, Lorenzo, siamo a campo. Gente, però gioca a tennis a due del pomeriggio sotto il sole, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Stita finita. Sono morta. La faccetta. Caldo. 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 Troppo caldo. Andiamo? Adesso si va da nonna in campagna. Se no, si arrabbia, se la vediamo sempre. La vediamo troppo poco, si arrabbia, si offende. Quindi, andiamo. Macchina recuperata e ci siamo. Madonna, è in forma. È in forma. Andiamo nella reggia della nonna. Oh, è una bella campagna umbra in mezzo al nulla. Eccoci qua, nella reggia. Dove è la nonna cazzuta? Ciao. Ciao, nonna. Ciao. 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 Siamo con la nonna. Ciao, nonna. No, la lascia andare. Che? Che? Ho provato, ho visto di lì che è stata buona. A fa che? A fa quel lavoro. Prova questo. No, la prenderà agni. Ma per il tutto farà aglio, per Dio. Dimmi. Di qui, questo si è piegato. Tocca rimetterci uno in questo. E mica io sono ingegnere. Vabbè, lascio. Andiamo in piscina. Andiamo a vedere la piscina come me. Senta che caldo, che fa? Non ci vuol dire, mannaggia mia. Ale, 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 ale. Tanto rompe. Mamma mia. Mamma mia. Senta che benessere che è. E ale, ale. Beh, beh, bagnetto? Bagnetto. Ovviamente il capo ci sarebbe davanti.